Non muoiono mai se si fanno come vanno fatte Ebbene i fratelli Rossetti sono maestri nel tavolo comico E partecipano per l'Italia i fratelli Rossetti Ricordiamoci che il circo nasce in Italia Nel medioevo si esibivano molti saltimbanchi nelle corti dei castelli Questo che stiamo vedendo, i fratelli Rossetti, è circo tradizionale Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti! Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti i nostri spettatori